Belli mia, buon pomeriggio a tutti quanti, mi sono fermato un attimo in pausa pranzo, mi si è rovinata la giornata, mi sono fermato in pausa a mangiare un travezino al bar, è entrato un signore che aveva fame, poverino, ha chiesto al proprietario del bar se gli dava un panino, non aveva i soldi, si è girato molto spavato il covattello, vao vedi tanna affanculo, non si fanno così alle persone bisognose, due panini glielo ho comprati io all'alimentare però, perché uno così non si merita neanche un centesimo, zero rispetto e assolutamente non ci si comporta così con una persona bisognosa, una persona più grande, si è girato in quel modo, si atteggiava pure per vedere se lo guardavano, ci sarebbe da guardarti per sputarti dentro gli occhi, comunque due panini al signore e una boccia d'acqua glielo ho preso io, povero so e povero rimango, ma mai negare da mangiare al prossimo. Io mi dissocio perché rispondere così a una persona più grande, cercarla di umiliarla davanti alle persone sei solo un pezzo di merda e ti devo chiamare tale, perché quella persona aveva fame, si leggeva negli occhi un panino con il salame, il barista non andava fallito, ma il panino glielo ho comprato io con il cuore, con il cuore proprio, il barista voleva fare tutto lo spavar del coattello con il signore che c'ha bisogno, capito? queste cose non le posso vedere raga, mai negare da mangiare al prossimo e mai dire io non beverò mai questa acqua o mai non mangerò questo pane, bella raga!